Nel momento cosa succede? Che a noi danno, ci mandano da Udine una fotografia, una fotografia dove si vede c'è un alpestock, le alpestock sono quei bastoni che usano gli alpini in montagna, si chiama alpestock, metti per saltare eccetera, e sopra una testa di un alpino c'era la testa di una persona col beretta alpino, cioè avevano preso a Udine, giù da quelle parti, i fascisti, e gli hanno tagliato la testa e l'hanno presa lì e hanno fatto la fotografia, noi un bel momento quella fotografia la riceviamo, dice su questa fotografia bisogna lavorarci perché è importante, e noi abbiamo fatto, poi ve lo faccio vedere, abbiamo fatto un numero con questa fotografia, di quelle ne abbiamo fatto un migliaio, come minimo, è successo un film di mondo a Savona, un casino, prima di andare a cercare il fotografo, hanno cacciato all'aria tutti i fotografi di Savona per trovare la, come si chiama, la diapositiva di questa foto, e la foto l'aveva solo, l'aveva fatta, ce l'aveva fatta, il fotografo di via Palovoselli c'è sempre stato dove c'è quel palazzo con le colonne di fronte all'ex moderno, lì c'era un fotografo, c'è sempre stato, ora non mi ricordo il nome, e lui aveva fatte lui queste cose, però la diapositiva non ce l'aveva più, l'aveva bruciata, e lì li ha capovolto tutta la baracca, era una baracca, per cercare, insomma, e lì dice cosa cercate, io non ho niente qua, non ho fatto niente, eccetera, insomma, un affare di questo genere, e poi sono andati da altri fotografi, ma il più importante è che hanno preso quello lì, si vede che avevano avuto qualche soffiata, dicendo, perché quello era un po' dalla nostra parte, e quindi c'è stata una soffiata, è lui che l'ha fatta e le altre, tra le altre cose, l'aveva fatta e lui le copie che abbiamo fatto poi noi, che è stampato poi sopra al giornalino, è successo il fin del mondo, sono andato a cercare chi è che portava la carta, chi è di qua, e hanno trovato meno male, perché la gente ne aveva le palle piene, non è che la gente aiutava in qualche maniera, così, involontariamente ci aiutava, in sostanza, non sapendo chi eravamo noi, cosa facevamo, ma nel complesso c'era un po' di aiuto.